Benvenuti al TG10, tra poco nel telegiornale l'apertura la dedicheremo all'intesa raggiunta nelle scorse ore tra sindacati nazionali e i vertici di Confindustria. Adesso però deve essere il Governo a dare il via libera al pacchetto di deforma degli ammortizzatori sociali e delle aree di crisi, compresa quella di Gela. Spazio anche agli eventi presentati dalla Commissione Permanente Sviluppo Economico preseduta da Antonio Torrenti al fine di tentare di uscire dalla crisi perdurante. Gli eventi sono rivolti alla promozione e alla valorizzazione del centro storico e al rilancio delle imprese agricole, artigianali, industriali e a sostegno delle start-up e delle imprenditorie giovanile. Non mancheranno nel nostro telegiornale le notizie di cronaca nera e di giudiziaria, vi riferiremo anche del primo palio dell'Elemanna che si trarrà domani a Gela ed infine la pagina dello sport con il calcio. Di questo e di altro subito dopo la pubblicità. Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'intesa raggiunta nelle scorse ore tra sindacati nazionali e vertici di Confindustria. Adesso però deve essere il Governo a dare il via libera al pacchetto di riforma degli ammortizzatori sociali e delle aree di crisi, compresa quella di Gela. Un accordo concepito al fine di affrontare al meglio la difficile situazione congiunturale di riconversione dalla raffineria Eni di Gela e di tutte quelle aree di crisi che sono state definite in Italia per governare con più efficacia i processi di transizione industriale. Soddisfazione è stata manifestata dalle segreterie confederali di CGL Cislewil per l'intesa raggiunta tra le segreterie nazionali e Confindustria in riferimento al delicato tema delle aree di crisi dove entra a pieno titolo l'area industriale di Gela. I recenti interventi legislativi di riforma degli ammortizzatori sociali hanno sensibilmente ridotto lo spazio di azione degli stessi ammortizzatori lasciando senza nessun reddito i lavoratori dell'indotto di Gela. Il documento propone un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali che mette al centro la ricollocazione dei lavoratori assegnando alle parti sociali attraverso la contrattazione un ruolo attivo e di grande responsabilità. In particolare sono state individuate specifiche soluzioni da adottare in due differenti contesti. Nelle imprese interessate dalla cassa integrazione laddove siano previsti esuberi si propone attraverso un accordo sindacale la condivisione di un piano operativo di ricollocazione finalizzato a favorire la formazione e la ricollocazione dei lavoratori già durante il periodo di cassa integrazione e per le attività di formazione le parti hanno previsto la possibilità di operare attraverso fondi interprofessionali nelle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa e non complessa laddove vi siano concrete possibilità di rilancio delle attività produttive si propongono anche alcuni correttivi alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Ignazio Giudice, CGL, Emanuele Gallo, CISL e Maurizio Castania Will confidano nella condivisione di queste proposte da parte del Governo nazionale e ne auspicano la piena attuazione forti dalla convinzione che nell'attuale contesto produttivo ed economico del territorio di Gela siano utili per dare risposte adeguate a imprese e lavoratori. Studiava moda all'ARIM Accademia Euro Mediterranea a Catania e aveva tanti sogni nel cassetto, sogni purtroppo infranti ieri sera. Aveva solo 24 anni il gelese Damiano Giocolano morto per un arresto cardiaco improvviso e deceduto dinanzi agli occhi increduli dei genitori che in quel momento erano con lui a guardare la tv, abitava in via Pietro Mascagni nel quartiere Ospizio, sei anni addietro a seguito di un tumore aveva perduto la sorella Deborah alla quale era legatissimo. Indagini a tutto campo sono state viate dai carabinieri a seguito della rapina commessa ieri sera ai danni di un'oreficeria di Butera in pieno centro storico un uomo con il volto coperto solo dalla visera di un cappello ha fatto eruzione colpendo il titolare che successivamente è stato trasferito all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'azione delinquenziale è durata pochi istanti, il commerciante avrebbe cercato di resistere al colpo, non è chiaro se il rapinatore fosse armato, rubati alcuni monili in oro. I militari dell'arma hanno requisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci degli emendamenti presentati dalla Commissione Permanente Sviluppo Economico preseduta da Antonio Torrenti al fine di tentare di uscire dalla crisi perdurante. Sono rivolti alla promozione e alla valorizzazione del centro storico e al rilancio delle imprese agricole, artigianali e industriali e a sostegno delle start-up e dell'imprenditoria giovanile. Vediamo. Rilanciare e sostenere tutte le attività economiche e imprenditoriali gialesi è l'obiettivo della Commissione Permanente Sviluppo Economico preseduta da Antonio Torrenti e composta da Anna Comandatore, Angela Maria Di Modica, Vincenzo Giudice e Carmelo Orlando. Per tentare di uscire dalla crisi perdurante sono stati presentati ben sette emendamenti rivolti alla promozione e alla valorizzazione del centro storico e al rilancio delle imprese agricole, artigianali e industriali e a sostegno delle start-up e dell'imprenditoria giovanile. I cinque di questi qui riguardano il progetto di valorizzazione del centro storico che già la Commissione che presiede a giugno presenta in Consiglio Comunale. Una valorizzazione che potrà dare ai commercianti e non solo la possibilità di rilanciarsi perché il periodo di certo non è dei migliori. Quindi cinque di questi emendamenti vanno a coprire e a dare copertura finanziaria se passassero in Consiglio Comunale in sede di voto prossimamente la copertura finanziaria al progetto. Così immagino che dopo il voto del bilancio si possa istituzionalizzare questo progetto e partire per i quattro mesi sperimentali. Gli altri due emendamenti che presenteremo e abbiamo già presentato e per cui si avvierà un discorso in aula consigliare riguardano la copertura finanziaria alle start-up. Perché questo? Io come Presidente di Commissione di Sviluppo Economico un mesetto fa abbiamo ricevuto l'affare fornito da parte della Presidente del Consiglio su un mandato dell'Assessorale di Sviluppo Economico di sviluppare e lavorare su un regolamento per le start-up. Questa cosa vuol dire che è nell'intenzione dell'amministrazione finanziare le giovani imprese, quelle che vogliono immettersi nel mercato e quindi alzarsi i start-up, con dei fondi, con dei finanziamenti a fondo perduto. Per fare questo ci vuole un bando, per fare il bando ci vuole un nuovo regolamento. La Commissione ha questo affare, ci lavorerà, ma in corso d'opera ci siamo accorti col bilancio che mancano i fondi. In merito dove già la valorizzazione però del centro storico quali categorie saranno coinvolte? Gli artigiani in primo luogo, i commercianti è da loro che viene la richiesta iniziale perché c'è un periodo che va oltre l'estate fino al Natale che è sostanzialmente vuoto per loro, vuoto di affari. L'idea di rilanciare il centro storico con una serie di iniziative che sono all'interno del progetto è proprio quella di venire incontro ai commercianti e far sì che questo periodo, lasciatemi dire, commercialmente morto piuttosto torni ad essere vivo come lo è stato per quest'estate. E' stato coinvolto anche le associazioni presenti sul territorio? Soprattutto, ma voglio dire, diversi sono stati gli incontri, l'ultimo alla Pinacoteca, posso parlare di Gela Centro, con Commercio, Fipe, con Fesercenti, altre associazioni, la Proloco, la Proloco che ha presentato un eccellente reportage, belle idee soprattutto, e le associazioni e alcune piccole imprese che sono specializzate nella ristorazione. Ma poi, dico, questo progetto è aperto, è già insito, c'è un passo all'interno del progetto, è aperto a nuovi soggetti, quindi tutti possono partecipare. La pagina della cronaca giudiziaria è di un arresto e di denunce il bilancio di un'attività eseguita a Gela dalla polizia. Salvatore Celona, 56 anni, è stato manettato in esecuzione di un ordine messo dalla procura di Gela. Deve scontare tre anni, due mesi e 15 giorni per truffa. Un uomo di 63 anni è stato segnalato per minaccia, maltrattamenti di animali e porto ingiustificato di arma da taglio. Ha minacciato con un coltello un passante che cercava di farlo desistere dalle violenze messe in atto ai danni di un pitbull al quale erano state mozzate le orecchie. Un gelese di 40 anni invece dovrà rispondere di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di polizia e in osservanza dei provvedimenti dell'autorità. Sempre la polizia ha controllato sei attività commerciali e 35 persone contestando due infrazioni. In particolar modo il titolare di un locale pubblico di Contrada Manfria è stato sanzionato per avere organizzato eventi e somministrato alcolici senza le necessarie autorizzazioni. Un altro esercente, titolare di un locale notturno, è stato contravenzionato per avere protratto l'evento musicale oltre le due del mattino. Infrastrutture inadeguate, condutture obsolete sia nella rete di distribuzione di caltacqua sia negli acquedotti di sovrambito di Sicilia Acque che gestisce i bacini. Assenze in ambia zone del territorio del servizio delle acque reflue. Continue ordinanze sulla non potabilità dell'acqua e distribuzione a giorni alterni. Questa è la denuncia della CISL che ancora una volta interviene sul servizio idrico in provincia i cui disservizi si riverberano sulle tasche dei cittadini. Circa 300 euro a famiglia infatti le ha spesa per l'acquisto di acqua in bottiglia a cui si sommano i costi per le bollette le cui tariffe sono state aumentate. Noi oggi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa per impugnare la delibera del commissario della provincia che attualmente è anche commissario dell'ex stato idrico per cercare innanzitutto di chiarire alcuni aspetti all'interno della delibera ma non solo questo. È opportuno secondo me mettere in evidenza il costo dell'acqua che si è innalzato negli ultimi 7 anni sino al 2015 del 70%. Con questa ultima delibera si arriva ad aumentare l'acqua di circa il 20% per 4 anni. Questi sono dei costi elevati che la cittadinanza naturalmente non può affrontare e quindi noi cercheremo in tutti i modi di creare i presupposti di impugnare questa delibera e creare le condizioni di ritornare nelle condizioni precedenti. Mentre tutte le province in Sicilia hanno già costituito l'assemblea territoriale idrica in provincia di Caltanissetta non si è effettuato questa assemblea territoriale idrica. Quindi è una fase importante che il Reggio prevede perché quando c'è l'assessore all'energia che convoca i vari riferimenti, nel nostro caso in provincia di Caltanissetta ci va il commissario della provincia, la Panfini, mentre in tutte le altre province ci vanno i cosiddetti sindaci che è il presidente dell'assemblea territoriale idrica che svolge un ruolo politico, non tanto come il commissario. A sostenere la battaglia della CISL affiancata dall'avvocato Angelo Urrigo anche la di Consum Sicilia. Ma questo provvedimento ha determinato, ha indicato meglio, più che determinato l'articolazione tariffaria nella parte fissa e nella parte variabile. Noi abbiamo esaminato assieme al collega Urrigo quest'atto e riteniamo che lo stesso atto rechi dei profili di legittimità sui quali stiamo facendo un approfondito studio riservandoci anche di valutare l'opportunità di effettuare un ricorso al TAR. Nella delibera del lato CL6 viene indicato una dichiarazione di intenti cioè a dire che lato si impegna a ridurre le tariffe soprattutto nella quota fissa con decorrenza presumibilmente dall'1.1.2017. Quindi noi ci chiediamo come mai questo fatto, questa dichiarazione di intenti non sia stata messa in atto sin da subito, cioè a partire dal 2016. Continuano le iniziative in merito ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima D'Alemanna patrona di Gela. Ogni giorno dalle 7.30 fino al 7. settembre si terranno le preghiere della Rosario e della Novena della Madonna. Alle 7 la celebrazione eucaristica con Omeria. Alle 18.30 il Rosario coroncina di Maria Santissima D'Alemanna. Oggi Eucaristia con i gruppi di famiglia e benedizione della vita nascente. Domani alle 9.15 celebrazione dei Cresimanti. Alle 19.30 Eucaristia dei giovani fidanzati. Lunedì 5 settembre alle 21 liturgia con le comunità neocatecumenali. Martedì 6 alle 21 celebrazione alla Santa Madre di Dio. Mercoledì alle 21 lucernario e solenni vespri della Madonna dell'Alemanna. E giovedì 8 settembre Gela festeggerà la Madonna dell'Alemanna a ricordo del rinnovamento della sacra icona. E in edicola, e lo vediamo, il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Dopo il commercio, l'artigianato, il focus di questa settimana è dedicato ad un altro comparto in crisi. Ne parlano i due maggiori sindacati del settore, Confartigianato e Casa Artigiani. Il servizio è di Nello Lombardo. Giulio Cordaro, nella sua rubrica Politicamente scorretto, spiega dal suo punto di riservazione perché votare no alla riforma costituzionale voluta da Renzi. Due, le pagine dedicate alla cultura e allo spettacolo con servizi sul Festival del Golfo e sul premio nazionale Eleonora Lavora riservato ai cantanti, mentre Gandolfo Cascio firma la rubrica Il Libro del Mese. C'è inoltre la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con i servizi di Orazio a comando sul Gela Calcio e di Zeira Palacenti sul Terranova. In ultima, la pagina degli annunci economici gratuiti. Buongiorno dalla Guardia Cossiera di Gela. Siamo qui nella nostra sala operativa e oggi parliamo del numero blu, il numero di emergenza in mare 1530. Da questo posto vengono gestite tutti i tipi di chiamate, quelle che sono le chiamate telefoniche, che arrivano sia tramite centralino che tramite appunto il numero blu 1530 e anche tramite i nostri apparati VHF, quindi gli apparati radio. Da qui il personale dispone l'uscita delle nostre motovedette o della motovedetta di soccorso, che è la motovedetta CP817, che è una motovedetta armata 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, capace di uscire e di prendere il mare con qualsiasi condizione di vento e di mare appunto. In questo modo viene garantito il soccorso per tutti i periodi dell'anno. Il numero blu 1530 è un diciamo di ultima generazione e sviluppato come un numero di emergenza qualsiasi, cioè si attacca direttamente alla cella, anche se sarà chiamata dal cellulare oppure anche dal telefono fisso e viene mandato direttamente al centralino della nostra sala operativa. Quindi è sempre attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. La Guardia Cossiera di Gela appunto raccomanda un ottimo utilizzo delle spiagge e un passimonioso utilizzo di questo numero blu, perché in caso di emergenza o in caso di falsa emergenza verranno presi dei provvedimenti anche dal punto di vista legale. Benvenuti in seconda parte del telegiornale. si trarà l'uno di 5 settembre il sorteggio pubblico per assegnare gli alunni alle classi prime del liceo classico e del liceo delle scienze umane. Il sorteggio avrà luogo nell'aula magna del liceo classico con inizio previsto alle 10 per gli alunni delle quarte ginasiali e alle 11.30 per gli alunni delle prime liceo. Proseguono gli appuntamenti con l'estate giolese. Oggi alle 21 sul Sagrato della Chiesa Madre il Centro Giovanile Musica e Arte porterà in scena il musical Madre Teresa alla vigilia della canonizzazione della visionaria di Calcutta. Domani alle 20 nel giorno della santificazione di Madre Teresa si terrà nella Chiesa Regina Pacis la solenne celebrazione eucaristica animata dai ragazzi del gruppo giovanile. Si tratta dei primi due appuntamenti dell'anno sociale 2016-2017 che la comunità Regina Pacis e il CESMA propongono alla città. Sempre domani in Piazza Umberto I si terrà una mostra d'auto d'epoca. Dalle 18 invece il Centro Storico farà un salto indietro nei secoli con il Palio dell'Alemanna. C'è grande attesa per la manifestazione in costume quest'anno sperimentata per la prima volta. Sentiamo come sarà articolato il Palio. Parte domani il Palio dell'Alemanna domenica 4 settembre alle ore 19.30 è una manifestazione importante per la quale lavoriamo da molto tempo. Il corteo avrà la sua partenza dall'area del Museo Archeologico di Gela che ricordiamo per quella giornata sarà aperto, recontinuato con l'ingresso gratuito e proseguirà prima verso Piazza Sant'Agostino dove ci saranno alcuni allestimenti poi verso Piazza Umberto dove ci saranno diversi spettacoli. Sono diversi gruppi che partecipano a questa manifestazione sia locali che esterni sono diverse associazioni appartenenti alla Casa del Volontariato che sono gli organizzatori dell'evento e gruppi esterni come ad esempio il Cavalieri di Plutia di Piazza Ermerina quindi i Cavalieri Normanni e gli Arcieri di Enna assieme all'Opificio Medievale di Enna i Tamburi di Buccheri la Corte Gigante di Comitini il gruppo forcolistico di Niscemi e così via. Quindi una grande partecipazione è anche dei comuni limitrofi che andranno ad arricchire la serata. Io invito la cittadinanza a partecipare sarà un evento unico e straordinario dedicato alla nostra patrona e dedicato a quello che è il fondatore della città medievale Federico II. La Casa del Volontariato che è tra gli organizzatori sicuramente è un valore aggiunto per la nostra comunità. Tutte le associazioni di protezione civile che operiamo all'interno della Casa del Volontariato stiamo collaborando affinché la popolazione possa assistere a questa grande manifestazione in totale sicurezza. Quindi per noi è sicuramente una grande occasione per testare le nostre capacità e per dare una mano alla collettività. Uniti si vince. E domani alle 21 sul lungomare Federico II di Svevia torna l'iniziativa più gradita dai bambini. Le attività con mamma e papà promosse da Happy Events alla stessa ora in Piazza Calvario e infine è prevista una serata di musica folk. Ed è tutto pronto per lo Sperone Arte 2016 promosso come ogni anno dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo. La manifestazione patrocinata dal Comune avrà luogo da domani a giovedì 8 settembre nella caratteristica Via Pisa alla Rassegna d'Arte che servirà a valorizzare meglio questo quartiere popolare di Gela hanno dato già all'adesione pittori, scultori, ceramisti, fotografi artigiani di Gela e della Sicilia e servirà ad un confronto ideale fra le varie sensibilità culturali della nostra isola e valorizzerà lo scambio culturale e artistico dei soggetti partecipanti. E ora parliamo di calcio parte domani il campionato di Serie D il Gela sarà di scena a Pomigliano d'Arco nuova guida tecnica con Pietro Infantino il direttore sportivo del club Giovanni Martello afferma che la società è attiva sul mercato dopo l'abbandono di alcuni giocatori. Si parte domani scatta il campionato di Serie D e per il Gela è subito trasferta la compagine biancazzurra sarà di scena sul campo del Pomigliano d'Arco nel Napoletano gara insidiosa come lo saranno tutte le altre del torneo che sta per cominciare un campionato che vedrà ai nastri di partenza squadre bellasonate e che hanno un trascorso importante ci riferiamo alla Cavese alla Turris alla Sicula Leonzio a Riggia Virtus e anche al Gela si perché il Gela ha calcato anche i campi di Serie C1 e dunque ha un curriculum di tutto rispetto i biancazzurri del neotecnico Pietro Infantino si presenteranno all'appuntamento di domani dopo aver superato una settimana e più ad alta tensione squadra che non partecipa al campionato giocatori che fanno le valigie crisi societarie rientrata allontanamento dall'allenatore Toto Brucleri di tutto di più a proposito di giocatori che sono andati via anche il centrocampista Trofo e il portiere Costanzo hanno fatto le valigie si aggiungono ai vari strumbo Biondo Mincica Biancola Lia e Luis è ritornato alla base il giovane difensore centrale Matteo Runza però adesso come dicevamo è giunta l'ora di metterci una pietra sopra e pensare solo a giocare e a dare l'anima per la maglia che si indossa Certamente è stata una settimana particolarmente difficile per tutti però fortunatamente ritornati in sereno ci siamo sicuramente sfuteremo sangue per questa maglia per onorarla per portare il Gela più in alto possibile Dopo l'abbandono di alcuni giocatori appresso si interverrà sul mercato per acquistare altri atleti che possano sposare il progetto Gela Dobbiamo obbligatoriamente intervenire ci facciamo questa partita ci siederemo con il nuovo allenatore e pianificheremo il da parte Domani la partita avrà inizio alle 15 dalla poca esperienza che ho non mi sembra che ci siano squadre materasse in questo campionato quindi tutte le partite saranno difficilissime storicamente le campane sono ostiche tra le muramiche poi noi siamo in una situazione di emergenza però venderemo cara la pelle non c'è dubbio Dicevamo del nuovo tecnico del Gela Pietro Infantino è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa lo sentiamo ai microfoni di Franco Gallo Pietro Infantino appena 30 anni e rieccoti a Gela rieccoti al Vincenzo Presti quale emozione? Ma è tantissimo ritrovare dei vecchi amici come Giacomo che abbiamo giocato assieme ma l'emozione è quella di arrivare in una piazza importante io ringrazio la società che mi sta dando questa opportunità di tornare a Gela è una piazza ambita da tantissimi allenatori sicuramente non me l'aspettavo era una chiamata inaspettata perché so che l'amico Totò ha fatto ha fatto bene ho questo compito come come gli altri anni sempre di di subentrare allenatori che hanno lasciato una striscia io faccio il mio mestiere e lo faccio con grande professionalità con grande impegno poi il campo quello che dà il giudizio finale ti sei informato in questa settimana della grave crisi dalla quale il Gela sta uscendo sì mi informavo perché a parte Alessandro che ha giocato con me e Maurizio era con me all'Atletico Catania sicuramente una piazza dove ho passato un anno bellissimo mi dispiaceva la posizione che stava attraversando soprattutto il presidente Angelo Tuccio che conosco da tantissimi anni una persona che ha speso tantissimo per Gela però ero convinto e sicuro che questa persona non lasciava questa bellissima città senza calcio senti cosa ti hanno chiesto la dirigenza come progetto e come obiettivo di raggiungere quest'anno mi hanno chiesto quello che so fare con tantissima umiltà io credo che l'obiettivo principale è quello di sistemarci quello di di onorare questa maglia perché credo che il blasone si deve rispettare la storia si deve rispettare come dice il presidente ho sentito un'intervista l'ultima intervista che ha fatto il presidente parlava di appartenenza l'appartenenza è su tanti fronti l'appartenenza è per la maglia l'appartenenza è per la storia della città l'appartenenza è al compagno vicino questo senso a me lo uso tantissimo nel mio spogliatoio mi ha fatto piacere che è un caposaldo del presidente mi hanno chiesto di riorganizzarci e di cercare di fare bella figura in questo campionato che è difficilissimo ultimo appuntamento con teatro sotto le stelle all'arena all'aperto di Macchitella oggi alle 21.30 la compagnia antidoto porta in scena la fortuna con la F maiuscola l'ingresso lo ricordiamo è di 5 euro a coppia per l'occasione tutti gli spettatori potranno partecipare ad un'estrazione che mette in palio un'opera dell'artista gelese Giovanni Iudice il ricavato anche quello che si otterrà dalla vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza ai terremotati del centro Italia abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo un buon fine settimana appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti